Noi ti odiamo, ti benediciamo, ti amiamo, vi non esistiamo, vi rendiamo grazia per la tua gloria e benza, Signore Dio, Re del Cielo, Dio Padre Onnipotente. Gloria, gloria, in eccelsis Deo, gloria, gloria, in eccelsis Deo. Signore, Figlio Unigenito, Gesù Cristo, Signore Dio, Agnello di Dio, Figlio del Padre, Tu che togli i peccati del mondo, ambi pietà di noi. Tu che togli i peccati del mondo, s'anggogli la nostra supplica. Tu che siedi alla destra del Padre, avvi pietà di noi. Il scopo della missione del Vescovo Guido fu edificare una comunità ecclesiale e civile più autentica e attiva. La festa è alla di San Guido Berlioni Scensini, chiesa di anni e città, per onorare il vostro patrono, testimone coraggioso della verità e di pensione dei poveri ed oppressi, discepolo fedele di Gesù e suo annunciatore. Il suo esempio ci strona a seguirne la vita, per essere anche noi oggi testimoni e annunciatori di Cristo mediante la fede e la carità. Grazie. 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 Grazie.